Salve a tutti bella gente e benvenuti in questo nuovo video, video nel quale vi andrò a far vedere come installare il dispositivo che ho installato io sulla Fiat Grande Punto, la mia Fiat Grande Punto, per mettere il Bluetooth e il cavo AUX, dato che il modello che ho io è abbastanza base e non ce l'aveva di serie. E essendo una cosa che secondo me al giorno d'oggi è indispensabile, mi sono attrezzato, informandomi in giro, ho comprato un dispositivo che mi permettesse sia di inserire il cavo AUX che di mettere il Bluetooth. Per poter avere sia il cavo AUX che il Bluetooth in un unico dispositivo, io informandomi in giro, ho trovato il Yotaur, non so come si chiama, non so da chi viene prodotto, so solo che è predisposto sia per il Bluetooth, infatti come vedete c'è questa scatoletta qui. Siccome a me quando l'ho inserito ne erano stati spediti due, ve lo faccio vedere, facciamo una specie di unboxing, questa scatoletta qui che ha il cavo per il Bluetooth, il cavo che si connette all'autoradio e qui di fuori ha il cavetto che permette di inserire il cavo AUX, poi questo dispositivo qui ha la scheda micro SD e la USB, poi oltre a questo ci sono anche, c'è il cavo, il cavo completo di tutto da collegare dietro all'autoradio e ha questa scatoletta qui. Questo modello qui non ha il cavo AUX e il pulsantino, ma lo dovete comprare a parte, l'altra versione che avevo comprato io aveva incluso il pulsantino che dopo vi farò vedere per il controllo del Bluetooth. Come vedete l'autoradio in questione è questa, quella che viene fornita, veniva perlomeno fornita su tutte le Fiat Grande Punto, perlomeno la Grande Punto e la Punto Evo. Questa è la Delphi se non sbaglio, può avere anche l'altro modello che però adesso non mi ricordo come si chiama, in caso ve lo metto in descrizione. Insieme a quella scatola che vi ho fatto vedere qui ci sono anche questi due gancetti che vengono infilati in questi due buchi. Quando li infilate dovete sentire una specie di click, questo vuol dire che i gancetti hanno sganciato i ganci laterali che ha l'autoradio. Una volta fatto così, tirate, tirate magari, non si sta a casa, vabbè, deve venire fuori l'autoradio. Una volta che vi è inuta fuori l'autoradio, questi due gancetti li potete levare, staccate l'autoradio piano piano, facendo attenzione anche perché qui ha i cavi per il funzionamento normale e quindi cercando di non staccare tutto completamente. Voi avrete solo due cavi, che sarà questo qui dell'antenna e questo qui grande con tutti questi cavi colorati qui che vedete, che permette alla radio di funzionare normalmente. E poi, come vedete da me, c'è questo cavo qui, che è il cavo che vi ho fatto vedere prima, che troverete nel dispositivo che andrete a comprare. Questo cavo qui va collegato nel primo buco. Come vedete, qui ci sono tre slot. Adesso ve lo tiro fuori già l'incastro. Come vedete, ci sono a disposizione tre slot in più per poterci inserire altre cose. Il cavo della scatoletta che vi ho fatto vedere prima lo inserite nel primo slot. Fate attenzione a come inserirlo perché non dovete rompere quei dentini che vedete sotto, perché se rompete uno di quei dentini lì, dopo non funziona più il tutto. Inserite questo cavo qui, come vi ho fatto vedere, nel primo slot facendo attenzione e anche qui, quando inserito per bene, dovete sentire un click. Come vedete, questo cavo qui passa qui dietro perché passa, va dietro. Io l'ho fatto passare lì dietro perché ci sono dei fori. Lo riuscite a far uscire nel cassetto, dove ci sarà, come vedete, questa scatoletta qui, che è la scatoletta che vi ho fatto vedere prima. L'ho fatta uscire nel portagetti per comodità in modo tale che non ho cavi a vista e mi stanno penzoloni. Da qui fate partire questo cavo qui, che è il cavo del Bluetooth. Comunque qui sulla scatoletta ci avete scritto BT e non vi potete sbagliare. Questo cavo qui, come vedete, l'ho inserito e l'ho fatto portare, l'ho portato qui. Come vedete, passa sempre da lì dietro e quel cavo lì ha questa scatoletta qui, questa specie di pulsante per poter prendere o chiudere le chiamate. E da questa scatoletta qui ci parte anche il microfono. Il microfono che, adesso mi sposto un po' indietro, ho fatto passare sempre qui sotto, per portarlo su vicino allo specchietto retrovisore, ho fatto passare il microfono qui sotto, che poi passa, come vedete, qui sotto, dove ho raccolto la lunghezza di cavo in eccesso e passa anche qui, come vedete, anche qui dietro, dietro a questo pannellino qui, questo pannellino qui, facendo una leggera pressione, stringendo, questo si stacca e ci viene fuori, viene fuori, come vedete, il cavetto passa qui. Oltre a farlo passare lì, l'ho fatto passare anche qui, come vedete, c'è il cavetto che esce fuori e l'ho fatto passare sotto la guarnizione qui e sotto a questo pannello porta qui. Passa tutto così per poi arrivare qua sopra, dove viene fuori qui. Passa tutto sotto la tapezzeria della macchina per arrivare qui. Qui, come vedete, qui c'è il microfono, microfono che io ho messo, ho attaccato con un bioadesivo abbastanza resistente, che resiste anche le temperature alte, perché comunque qui d'estate, la macchina stando fuori, qui si arrivano anche temperature importanti e quindi deve essere un bioadesivo, una colla, qualcosa abbastanza resistente. Mi raccomando, quando fate i collegamenti qui dietro all'autoradio, uno, fate attenzione a non tirare troppo questi cavi qui e due, fate attenzione a inserire bene questo attacco qui, altrimenti non funziona. Io, personalmente, la prima volta l'avevo inserito leggermente male e ogni tanto la musica gracchiava. Ho dovuto ristaccare la radio e rifare bene il collegamento. Una volta inserito questo, ho fatto passare tutti i vari ricavi dove volete, io vi consiglio di farlo uscire nel porto oggetti perché dopo qui nel porto oggetti avete anche la USB che è qui e avete anche la micro SD che è molto comoda. Sta qui dentro, non è a vista, è facilmente raggiungibile e non dà fastidio nemmeno perché ci potete mettere altre robe, è piccolina, quindi non dà fastidio. Dovete fare attenzione a tirare bene il cavo del dispositivo che va in modo tale che non vada ad impedire che l'autoradio venga inserita normalmente. Come vedete, spingete, dovete sentire una specie di click e l'autoradio è inserita al suo posto. Una volta fatto tutto questo passaggio qui, accendete l'autoradio. Per far funzionare quella scatoletta lì dovete premere sul tasto media dove troverete CD che è il classico CD della macchina. In questo caso qui parte il CD che ho dentro perché ho un CD dentro se non sbaglio. Sì, confermo. Non so nemmeno che cos'è, però lasciamo perdere. CD Reading è il classico CD. Ripremete il coso media e dovete trovare la scritta CD Changer che è il modo per utilizzare questa scatoletta qui. Per inserire le canzoni nella USB che nella microSD per far sì che funzionino qui dentro non basta che create una cartella e inserite questa cartella nella USB o microSD ma dovete creare delle cartelle chiamate CD01 come nel mio caso adesso vi faccio vedere. Come vedete ho creato CD01 dove ci andrete a mettere 99 canzoni. CD02 dove ci sono altre 99 canzoni e così all'infinito. Queste sorgenti non possono funzionare tutte e tre insieme che sia Bluetooth, microSD e USB. Queste sorgenti funzionano uno alla volta. Come vedete io qui ho inserito il cavo AUX ma non ho niente attaccato e quindi ho inserito solo la microSD. Se io volessi far funzionare Bluetooth bisogna che stacco la microSD. Quindi basta che la premete qui e poi la potete tranquillamente lasciare qui. Se volete riprodurre delle canzoni attraverso il Bluetooth bisogna che staccate la microSD o la USB se l'avete inserita. Se invece state ascoltando la musica attraverso la USB o la microSD e avete comunque collegato il telefono perché il telefono si collega automaticamente quando salite in macchina. Se vi arriva una chiamata viene interrotta la musica e voi comunque potete rispondere attraverso il tastino. L'unica cosa che dovete tenere in considerazione è che per riprodurre musica tramite il Bluetooth non dovete aver attaccato né microSD né USB. Ci tengo a fare una piccola precisazione che il Bluetooth purtroppo di questa scatoletta qui per quanto riguarda gli iPhone quindi il sistema operativo iOS se andate ad alzare un po' il volume si sente un po' di interferenza. Non ho capito a cosa è dovuta però ci fa soltanto con i dispositivi iOS. C'è da dire che non è una cosa che vi impedisce di utilizzare il dispositivo solo che è un po' fastidiosa quando alzate tanto il volume. Se non sono stato chiaro con i vari passaggi scrivetemelo nei commenti cercherò di rispondere alle domande in caso cercherò di spiegarvi anche come ho fatto a staccare però tanto alla fine basta è questione di staccare le plastiche in questo caso qui non del tutto tra l'altro nella guarnizione allargare un po' questa... io l'ho fatto con... prendete un cacciavite a punta piatta e lo fate poi fate passare qui sotto e riuscirete a fare tutti i vari passaggi di tutti i cavi in modo tale che non si vedano. Spero che questo video vi sarà utile mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate like, condividete commentate con quello che volete seguitemi anche su Instagram grazie per la visione arrivederci e al prossimo video